benvenuti amici di seili questa è un'altra puntata la sesta perché siamo partiti dal day zero e invece questo continua a fare così è il giorno 5 di questa olimpiade di parigi 2024 a marsiglia ho messo la foto dei laser io continuo a chiamarli laser sono gli ilca 7 e ilca 6 che oggi hanno esordito hanno fatto le loro prime regate due prove per i maschi e una prova per le femmine ne parleremo tra poco ma intanto vi porto dentro al clima di questa giornata una giornata infinita le ultime regate le ultime barche le ultime tavole sono tornate a terra le sette e mezza vi dico soltanto questo con relative mix zone con relative stazze che vanno preparate con relativi quarantene preparate nell'area delle medal race bene oggi sapete che erano in programma le prime medal race le prime medaglie dovevano esserci le prime medal ceremony sono venuti da parigi frotte di giornalisti francesi perché ci sono le francesi in testa nel fortine nfx tutti aspettavano queste prime notizie della vela e invece il romanzo alla fine chi lo scrive lo scrive sempre e solo il vento questo piaccia o non piaccia è la forza e la debolezza del nostro meraviglioso sport della vela e oggi il vento ha deciso di fare e disfare a piacimento pensate che in circa sette ore qualcosa di più di mare sono state fatte alla fine un distillato di appena otto regate nove regate tre una course race e due slalom per gli iq foil maschili e gli iq foil femminili quindi tre per uno che erano in un campo di regata molto a largo sotto alle isole lontano dalla costa perché sotto costa invece c'era un campo con i laser e un campo per le medal race molto sotto costa questo sistema delle medal race sotto costa chiaramente implica e rischia anzi è quasi una certezza che alla fine non c'è vento non c'è molto vento ci verso un vento capriccioso vedremo vedremo anche nei prossimi giorni vi do anche una primizia è annunciato in arrivo il famoso mistral sua maestà il maestrale francese il mistral è dato in arrivo nei prossimi giorni vedremo vedremo intanto se è vero perché le previsioni come sapete sono un po ballerine poi due prove come ho detto per gli ilca maschili gli ilca 7 e una prova per gli ilca 6 femminili nulla di fatto invece per le medal race hanno provato due volte sono partiti i maschi del forti niner guardate eh andate a vedere sulla copertina di seili il report della giornata perché abbiamo messo tutte le screenshot delle classifiche dei primi dieci cioè le classifiche con i punteggi che daranno vita alle medal race e abbiamo anche messo quella dei forti niner maschili perché è vero che non ci sono italiani ma vi assicuro che è una regatta straordinaria pensate che sette dico sette su dieci equipaggi possono ancora vincere loro cioè è una cosa assolutamente mai vista quindi è l'inno alla medal race l'inno a a questo format che eh la federazione internazionale della vela propose il CIO lo accettò proprio per evitare quei casi che spesso succedevano anche alle olimpiadi di velisti che in base alle serie vincevano i grandi campioni con una giornata di anticipo addirittura potevano permettersi il lusso di non scendere in acqua nella giornata conclusiva quindi arrivavano i giornalisti media e magari non c'era Torben Grail in acqua perché aveva vinto la medaglia d'oro nella star parlo di Atene 2004 con una giornata di anticipo per evitare questo è nata la medal race allora niente medal race sono partiti vi dicevo forti forti niner maschile è una regata bellissima hanno fatto due partenze e anche un paio di giri due volte e sono state sospese abbandonate perché il vent era sceso a quattro nodi quattro nodi e mezzo quindi non si poteva assolutamente continuare le ragazze dell'FX invece non sono neanche scese in acqua quindi domani si replica con inizio delle medal race si parte dalle ragazze del forti niner fx jana germani giorgia bertuzzi seste a 17 punti dal bronzo teorico quindi la matematica ancora non le condanna devono succedere un sacco di di congiunzioni astrali però insomma possono ancora sperare in questo o comunque di migliorare eh il loro piazzamento in finale sono sono già hanno dichiarato che sono orgogliose di aver raggiunto la finale noi lo siamo altrettanto domani scenderanno anche più riposate per questa giornata che è passata e quindi punto interrogativo comunque sono le prime ore 12 e 30 sincronizzate anche con gli orologi quindi 12 e 30 ci dovrebbe essere anzi ci sarà senz'altro la diretta eh Rai e ovviamente anche la diretta Eurosport Discovery tutti i canali dei detentori dei diritti in Italia eh e quindi eh queste sono le prime due medal race a seguire bene data come orario nel briefing che è stato fatto in sala stampa questa sera l'orario di riferimento per l'inizio della medal race degli IQ foil e dovrebbero partire i maschi è dalle ore quattordici dalle quattordici quindi non c'è ancora un orario preciso mentre fx e forti niner partiranno a sequenza con l'idea di partire alle 12 e 30 vento permettendo domani dovrebbe esserci più vento non si sa se già domani l'arrivo del Mistral o sicuramente dopo domani eh nel sabato e la domenica insomma ci deve essere questo Mistral quindi anche quando partiranno in Acra diciassette con Roger Ottita e Catarina Banti sabato però ci arriveremo perché domani domani sapete cos'è domani è il day 6 il giorno 6 su 12 6 è la metà siamo a metà olimpiade quattro medal race tre delle quali italiane italiane con azzurri presenti e con azzurri anche che hanno tanto da dire perché detto dell'FX con Iana e Giorgia che insomma hanno soprattutto poco da perdere questa è la cosa importante possono fare la medal race della vita serene sciolte e la devono vincere comunque per sperare poi vedere cosa fanno gli altri invece le medal race degli IQ foil sono dei veri eh film di Hitchcock perché non sono medal race sono medal series allora cosa hanno fatto oggi gli IQ foil femminili Marta anzi partiamo dai maschili Nico Renna Nicolo Renna sapete che partiva da tutta la storia della protesta la protesta è finita basta c'è la riapertura del caso il caso ormai è chiuso è stato dato alla riparazione la riparazione con quel punteggio è stato aumentato perché i francesi sono intervenuti eh gli sembrava unfair dare così troppo pochi punti a a all'italiano per il danno che aveva avuto nonostante che poi il danno è stato dato solo la riparazione solo su una delle due prove che lui ha avuto DNF ma comunque lasciamo perdere questo ha sicuramente destabilizzato Nicolo Renna e quindi Nicolo è attirato e non è il Nicolo solito che noi conosciamo quello solare che fa i sorrisi che fa i saluti così non è quel Nicolo però è un Nicolo che ha incontrato l'olimpiade l'abbiamo detto ieri eccoci qua io sono olimpiade tu sei Nicolo piacere adesso ci siamo conosciuti cerchiamo di sistemare le cose Nicolo parte dal sesto posto oggi ha fatto ci ha provato ad andare a risalire salire l'ideale sarebbe arrivare al terzo posto ora vi spiego perché comunque parte dal sesto posto oggi ha fatto un primo nella prima prova la course race quindi un nono e un quattro parte dal sesto posto non contano più i punteggi entriamo in questo mistero insondabile in questo giallo in questo eh questa sceneggiatura eh thriller delle medal series dell'IQ Foil funziona così ci sono dieci che vanno no? dieci che stanno in finale il primo in classifica in questo caso un australiano un po' a sorpresa il primo accederà direttamente alla terza fase di queste medal series hanno tre fasi le medal series quarti di finale semifinali e finali le finali sono tra tre persone il primo finalista già lo sappiamo ed è il primo in testa alla classifica della top ten quindi lui si siede lì e aspetta il secondo e il terzo ecco perché è importante arrivare in classifica secondi o terzi il secondo e terzo faranno le semifinali la semifinale è tra quattro concorrenti perché oltre al secondo e al terzo si aggiungeranno i migliori due che arrivano dai quarti di finale quarti di finale che ovviamente sono a sette cioè dal quarto il quinto il sesto il settimo l'ottavo il nono il decimo dal quarto al decimo fanno i quarti di finale questo quarto di finale è davvero una cosa tremenda perché di questi sette che partono solamente due passano il turno cinque sono eliminati diciamo così e resta la loro classifica nella top ten quella dopo le qualifiche mentre i primi due di quel quarto di finale raggiungono il secondo e il terzo della classifica generale ormai azzerata come punteggio e danno vita alle semifinali i primi due a loro volta raggiungeranno il primo e daranno vita alla finalissima a tre che praticamente le gli atleti del podio quelli che vinceranno oro argente bronzo poi si deciderà in base proprio al risultato di quella finale niccolò parte dal sesto ricordo che proprio quest'anno ha vinto l'europeo in grecia partendo credo ottavo quindi se ne intende di quarto di finale se ne intende del clima e si si dice che aspettare in semifinale o in finale è meglio perché sei riposato guardi gli altri qualcuno dice no è meglio partire già dai quarti perché almeno ti riscaldi hai visto il campo di regata hai capito ti sei sfidato hai visto come stanno gli altri eccetera eccetera sicuramente niccolò ha questo tipo di visione o perlomeno l'ha messa in atto fatto sta che insomma niccolò parte il suo obiettivo nel quarto di finale inevitabilmente è quello di arrivare tra i primi due avrà eh luke vanopseland come riferimento avrà il polacco quindi saranno questi un po' a giocarsela gli altri sono eh entrati in me da anche un po' a sorpresa alcuni elementi perché da questa medal dell'IQF il maschile pensate sono rimasti fuori due campioni del mondo di questo quadriennio il tedesco Kerdel e la il francese il il francese eh Nicolas Goyard campione del mondo a sua volta eh osannato atleta di casa tutti lo aspettavano i francesi hanno fatto quel quella che diciamo un po' così piccola cacciara del riapertura del caso Renna anche per favorire il loro atleta ecco qua il risultato è che il loro atleta è fuori dalla medal eh fuori dai giochi il nostro l'hanno un po' destabilizzato è stato dovuto fare fatica quindi Nico riposati stanotte sei tranquillo stai sereno saremo tutti con te e lui è il primo dovrebbe essere la prima delle medal race a partire passiamo all'IQF il femminile Marta Maggetti a noi proprio piace tanto Marta eh come atleta con come 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 il percorso che ha fatto come atleta la vediamo in questi giorni come se fosse avvolta da un toccata da un tocco magico non so come definirla eh anche oggi ha fatto una eh giornata di totale controllo lei ha detto in mix zone dice ma certo un po' di tensione c'era perché c'era una persona una ragazza una una concorrente da controllare che era l'unica che mi poteva raggiungere dal quarto posto al terzo io volevo ovviamente mantenere il terzo per accedere per quello che abbiamo detto prima alle semifinali e lei ha fatto questo controllo eh quindici undici nove piazzamenti diciamo a metà classifica per guardare il campo di regata guardare l'avversario soprattutto quell'avversaria lì e fare in modo che non si eh prendesse troppi punti quindi è una Marta razionale una Marta ragionatrice ricordiamolo Marta Maggetti a Enoshima alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel 2021 è arrivata a quarta la famosa medaglia di legno è tornata a terra che aveva un sorriso smagliante perché aveva fatto una bella medal race era quarta fuori dal podio senza medaglie però aveva fatto un'olimpiade splendida ha dato il massimo c'erano davanti a lei oggettivamente delle atlete più forti lei sapeva con quel sorriso che l'RSX finiva finiva un'epoca storica tutto l'allenamento la preparazione della tavola dislocante si passava all'IQ foil una tavola volante il foiling è tutto diverso per lei tutto da scoprire ebbene lei in pochi anni è diventata campionessa mondiale anche dell'IQ foil e adesso è all'Olimpiade e adesso ha eh alla 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 medal series entra dal terzo posto in quell'altra epoca storica lì sarebbe già stata medaglia Marta Maggetti no? Avrebbe fatto la medal race con la pettorina rossa qui non ci so pettorina perché chiaramente eh i punti si azzerano quindi brava Marta stupenda bravissima fatti la tua semifinale guarda cosa fanno le avversarie ragiona fai soprattutto il tuo fai una cosa fai Marta sì Marta Maggetti questo già sarà eh più che abbastanza l'esordio degli ilca dei laser che sono alle mie spalle mi sa che quello che vedete lì eh è proprio Lorenzo Chiavarini dico Lorenzo perché Lorenzo è il eh eh diciamo così il lo slang con cui viene chiamato eh Lorenzo Brando Chiavarini nella squadra perché lui chiaramente c'ha questa inflessione british no? Non so se ve l'avevo già detta questa cosa comunque non fa niente allora Lorenzo è ha iniziato un po' così in salita questa Olimpiade è andato in acqua in un campo di regata faceva un caldo tremendo c'era un vento veramente sospiroso anche su quel campo di regata credo che fosse Corniche ehm c'era un'onda verticale fastidiosissima abbiamo visto le immagini era era tutto abbastanza complicato e Lorenzo non l'ha capita questa regata qui non l'ha capita non l'ha capita tutte e due ha fatto due prove oltre il ventesimo posto è oltre il ventesimo posto come prima classifica la l'Olimpiade è molto lunga ricordiamo che l'obiettivo di Lorenzo Chiavarini che ha fatto quinto a un mondiale di Denag ha fatto altri risultati importanti eh è di entrare nella medal race quindi Lorenzo buona Olimpiade la abbiamo appena aperta buona Olimpiade andiamo avanti il caffemminile invece il sorriso di Chiara Benini Floriani una sola prova loro hanno fatto peccato peccato perché era partita bella Chiara Benini terza questa prova autorevole sfacciata sfrontata eh cuore oltre molto oltre l'ostacolo della serie Olimpiade mia eccomi qua sono pronta e quindi brava Chiara un bel piglio era un'idea che c'eravamo fatti alla vigilia ci aspettavamo un po' Chiara Benini così perché la vedevamo eh anche come come si è strutturata fisicamente una Chiara Benini completamente diversa da quella che ricordiamo i primi anni in laser adesso è veramente un'atleta pazzesca e quindi Chiara c'è ha fatto terza nella prima prova ovviamente già so poche due prove figurarsi una prova comunque via così questa è la giornata vi mi resta da dire della grande confusione in sala stampa eh ve lo voglio dire perché non sono questioni che magari hanno a che fare più con la vita nostra e con la vostra però eh i francesi fanno un casino tremendo e ci sono tanti giornalisti che ovviamente non sono giornalisti di vela e che quindi con questo eh grande bailam delle regole dei formati delle medal race medal series insomma ci capiscono poco e quindi vanno in giro a chiedere quindi c'è bisogno di briefing continui eccetera eccetera quindi si lavora un po' a fatica noi abbiamo visto del primo giorno che la medal la la venue media center ci sembrava davvero piccolina e in questo punto è veramente piccola adesso che ci sono tutti ci sono le medal e immaginiamo che sarà sempre peggio perché andiamo nel periodo clou in cui ci saranno sette classi in regata e quindi insomma sarà complicato però non ci spaventiamo noi siamo qua siamo qua per voi per raccontarvela eh domani è il sesto giorno abbiamo detto metà olimpiade ci vediamo domani buona serata da marsiglia forza vela azzurra domani tutti alle medal race ciao sei lì la casa della vela ciao